Un aspetto importante della realizzazione delle slide riguarda la parte relativa alle slide tecniche, questa è una domanda che mi viene fatta spesso quando sono in aula con i miei corsi, in aula in presenza o a distanza, come realizzare le slide tecniche, come se le slide tecniche fossero un qualcosa di diverso. In realtà un qualcosa di diverso lo sono, è anche vero però che i principi che regolano le slide tecniche non sono, quindi per quando parliamo di slide tecniche parliamo soprattutto di slide con grafici, tabelle, dati, numeri e così via, però non seguono una logica diversa, cioè la logica di semplicità, di chiarezza e di sintesi che abbiamo comunque visto in un'altra lezione vengono assolutamente riprese, perché alla fine si tratta di presentare quelli che sono i dati più importanti. Guardiamo ad esempio questa immagine, ecco questa immagine è un esempio pessimo di come non si usano le tabelle, i grafici e i dati. Questa è una slide troppo piena, probabilmente andrebbero fatte addirittura quattro slide, una con il codice, il codice scusate, viene sempre quando parlo di queste cose viene sempre il codice a barre, invece in realtà è il grafico a barre, una con la parte organizzativa che è trovata in alto a destra, una con la parte in basso a sinistra testuale, a meno che il testo non serve per illustrare qualche dato, probabilmente è così e comunque quel troppo testo, tra l'altro poi vediamo anche che il relatore si mette dalla parte del proiettore, per cui i dati nemmeno si vedono troppo, insomma è tutta una gestione che non è soddisfacente. In ogni caso, come abbiamo visto in una precedente lezione, applichiamo la tecnica per asciugare il testo, quindi riprendiamo semplicemente le parole chiave di questo testo, e un'altra slide, quella che vedete con la parte in basso a destra, quella con i tuoni fulmini, le sette e così via. Quindi vedete come una slide può essere tranquillamente sezionata, divisa e riprodotta su quattro slide diverse. Allora c'è un video, un video tratto da TED.com, su TED abbiamo già detto tanto sia in questo corso sia in altri corsi, quindi vi lascio per approfondimenti a quello che è il sito www.ted.com. C'è un video, questo di Melissa Marsha, che descrive proprio come realizzare delle slide tecniche, tra l'altro nelle risorse trovate ovviamente il link. Allora direi di andarlo a vedere e poi lo commentiamo insieme per vedere quali sono gli spunti che è possibile trarre da questo video. Grazie a tutti.